Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, un saluto da Gigi ed oggi siamo qui ritornati su Fortnite per andare a vedere tutto quello che è uscito nell'aggiornamento di oggi ed è veramente tantissima, tantissima, tantissima roba, soprattutto per quanto riguarda il gameplay e le armi. Ma non solo, perché quest'oggi alle 15, ora non so verso che ora uscirà questo video, ma spero molto prima delle 15, arriveranno le sfide, ovvero gli incarichi per completare appunto le pagine del pass battaglia, diciamo così, del Dottor Doom, quello vero tra virgolette, perché sappiamo che attualmente in lobby, in mappa o meglio c'è il Doombot, e quindi dovrebbe arrivare anche lui. E dopo ne parliamo, durante questo video vi spiego un attino la situazione del Dottor Doom, perché arriverà proprio in game, attenzione, molto interessante sta situazione. Ovviamente poi anche su questo ci andremo a fare un video, un contenuto, che poi vedrete sul canale, quindi mi raccomando raga, iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto, lasciando un bel mi piace per supportare il video, ma soprattutto, come al solito, vi ricordo di utilizzare il mio codice creatore GGYT, tutto grande, tutto attaccato alle cose oggetti di Fortnite, mi raccomando ragazzi, è davvero fondamentale per supportarmi, quindi contro, ad esempio, che sul supporto a un creatore ci sia scritto GGYT, tutto grande, tutto attaccato, anche perché ogni due settimane il codice scade dovete reinserirlo. Grazie proprio di cuore a chi lo farà, è fondamentale per supportarmi. A proposito del negozio, ragazzi, guardiamo un attino, ma mi sa che post-aggiornamento non è uscito nulla, quindi anche la gatta nera, tutta quella roba lì, potrebbe uscire alle 15, ma in realtà potrebbe anche non uscire quest'oggi e dovremo aspettare qualche giorno, magari domani o appunto nei prossimi giorni. Per quanto riguarda il pass, comunque, sono uscite anche poi, vabbè, a parte queste ricompense bonus che poi possiamo andare a shoppare con le stelle, io ne ho un botto, poi magari faremo un video dove riscatterò tutto quanto, assolutamente ragazzi, però questa era tutta roba che bene o male già conoscevamo, qui iniziano le cose un po' speciali, perché ci sono appunto questi super stili che abbiamo già visto nel video di questa mattina, perché questa mattina era uscito appunto un video con le GG News, e devo dire ragazzi, molto bello questo stile verde, eh, molto molto bello, non vedo l'ora poi di sbloccarli, ovviamente magari faremo anche delle random skin challenge con questi stili qui, veramente stupendi ragazzi, questo qui blu è veramente spettacolare, e poi c'è quello invece un po' più arancione, fiammeggiante, che è uno spettacolo assoluto, veramente assoluto, tanta tanta roba ragazzi, anche questo colore qui. Nelle ultime stagioni i super stili mi stavano un po' deludendo, ma in questa season davvero tanta roba. Vabbè ripeto, quello di Doom ve lo avevo più o meno già anche fatto vedere, ci sono anche delle emote, delle cosette, che però poi ovviamente raga andremo a sbloccare. Questo regà è un deltaplano, eh, è un deltaplano. Comunque ragazzi, startiamo il nostro solito server privato per andare a provare le novità appunto di questo aggiornamento, e le andiamo a commentare insieme. Allora ragazzi, cosa molto importante, nuovi personaggi. Oggi abbiamo Gwenpool, che si trova qui, poco fuori, rotaie rischiose, e vi venderà le doppie mitragliette mitiche di Gwenpool, a 600 lingotti d'oro, ma soprattutto ci sarà Shuri, che invece sta un po' più qui a sud, verso il nitrodromo, che c'ha gli artigli di Black Panther. Molto interessante pure quelli. Quelli si possono trovare anche in giro nella mappa, teoricamente, eh, e sono fortissimi. Per quanto riguarda la, diciamo, quella cella dove era rinchiusa Gwenpool, non ci sono cambiamenti, nel senso che lei semplicemente è uscita. Per quanto riguarda gli incarichi trama, ne abbiamo già parlato durante una live che abbiamo fatto proprio questa mattina su YouTube, ma ne parleremo nei prossimi giorni, perché teoricamente domani dovrebbero uscire i prossimi incarichi storia, e quindi ne andremo a completare insieme e ne andremo chiaramente a parlare. Quindi di tutte queste cose qui, ragazzi, poi andrò a dedicare dei video interi proprio dove parliamo soltanto di quello. Nel frattempo, ragazzi, giusto per farvi vedere che al castello di Doom c'è ancora il Doombot, è ancora tutto standard, normale, nel momento in cui sto registrando, però le cose potrebbero cambiare una volta che arriveranno le 15 con le missioni del Dottor Doom, eccetera, eccetera. Vi dico questo perché? Perché l'isola, quella che spona verso l'endgame, Verrà modificata e verrà fatta a tema, Dottor Doom. Per ora non è così, nel momento in cui uscirà questo video probabilmente ancora non è così, ma quasi sicuramente alle 15 questo cambiamento avverrà. Non solo, perché alle 15 dovrebbe arrivare anche il nuovo potere mitico del Dottor Doom, quello proprio della sua nuova armatura gigantesca che sta preparando da inizio stagione, o meglio, dalla fine della scorsa, che sarà devastante, ragazzi, sarà devastante. Avrà 4 poteri principalmente, una barriera arcana, che quindi credo in no build possa fare la differenza, perché si parla appunto di una vera e propria barriera. Il laser, tra l'altro quello che abbiamo visto anche nel trailer, no, che si vede il Dottor Doom che spara. Anche, diciamo, quella palla di energia verde che solitamente utilizza. E pare che avrà anche dei propulsori, quindi un vero e proprio movement incorporato. Ora voi direte, ammazza, è fortissima. Sì, e praticamente sarà stile Infinity Blade, quindi la spada dell'infinito che abbiamo avuto durante il capitolo 1, ragazzi. Quindi una volta che utilizzerete quel potere, avrete solo quel potere nell'inventario. Tutto il resto vi verrà scartato, ma poi ne andremo a parlare meglio. Lo andremo ovviamente anche a provare, perché quando uscirà tutto ciò, ovviamente, usciranno magari degli shorts o dei video totalmente dedicati. Ci mancherebbe altro. Ci mancherebbe altro. Nel frattempo, raga, ci sconfiggiamo comunque il Doombot. Vedete che comunque, appunto, è ancora il Doombot. Non c'è ancora il Dottor Doom. Che però, come vi stavo dicendo, è ormai agli sgoccioli. L'arrivo del Dottor Doom ormai è veramente agli sgoccioli. Allora, facciamo un attino fuori, perché sennò io qui perdo totalmente la concentrazione. Perfetto. Ok. Ci prendiamo il medaglione. Ci prendiamo anche il potere. Ci prendiamo pure la pistolina per non farci mancare nulla. Ci prendiamo anche la boccia. E direi che già iniziamo ad andare verso la safe. Perché sennò qui siamo fuori safe. Allora, piccola correzione, ragazzi. Praticamente, l'isola di Doom spawna col 5% di probabilità durante le partite. Nel senso, di norma spawna la classica isola, questa qui, fluttuante, verso l'endgame. Ma col 5% di possibilità potreste capitare in una lobby dove spawna l'isola di Doom. Con poi il potere mitico, quello devastante, eccetera, eccetera. Spero che questa percentuale si alzi e che non rimanga al 5% e che sia solo una cosa temporanea. Perché altrimenti sarà un bel casino anche semplicemente registrarci dei video e fare delle challenge. Perché io sono già la terza o quarta partita e ovviamente non mi è capitata. Altro, ma già ne avevamo parlato pure di questo, altro ritorno confermato appunto è quello di Iron Man. Già sapevamo che c'erano dei dialoghi con l'NPC di Iron Man che dovrebbe tornare proprio in mappa. Ma adesso ci sono proprio degli incarichi che poi usciranno nel corso della stagione che prevedono proprio l'utilizzo di armi delle Stark Industries e non solo. Quindi, raga, qui la situazione si fa sempre più seria. È come se, tipo, parlando principalmente della trama, in questo momento avessimo l'arrivo del cattivo. Quindi la situazione si fa tragica per i nostri amici, per i nostri eroi. E poi però ci sarà una situazione dove invece tutto verrà risolto appunto dall'arrivo di Iron Man e gli altri eroi. Comunque stavo dicendo ragazzi, l'armatura del Dottor Doom teoricamente si otterrà appunto sull'isola, quella che espona verso Endgame, e ci sarà questa sorta di calderone che appunto conquistandolo, tra virgolette, vi verrà dato il potere mitico. Molto interessante ragazzi, anche questo molto, molto, molto interessante. Allora ragazzi, come vi dicevo, qui ci sta appunto Gwempul, ok? Ci potete parlare, bla bla bla, vi dirà del fatto che ha recuperato un sacco di informazioni con tutto il discorso, no? Che è stata lì nella cella perché voleva sostanzialmente spiare i nostri nemici e bla bla bla. Detto questo, raga, ha appunto l'emico mitragliette doppie di Gwempul. Io adesso sto nei server privati, quindi non posso avere tutti quei lingottini, non la possiamo shoppare, ma banalmente è semplicemente molto più forte della versione leggendaria. Detto ciò, ragazzi, c'è una sorta di easter egg, tra virgolette, su queste mitragliette mitiche perché andandole a provare, a modificare sul banco da lavoro, vi diranno che sono già perfette così. Cioè vi dice, ma perché la volete modificare se è già perfetta così, quest'arma? Un po' così a troll, ragazzi. Ed è l'unica arma con un messaggio personalizzato quando vai a modificarla. È quello detto. No, hai detto che c'è un messaggio un po' speciale, però non hai detto che è l'unica ad averlo. Ah, vabbè, sì, 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 vabbè, ma comunque, raga, detto questo, era abbastanza scontato e non si potessero modificare perché già le armi mitiche non si possono modificare, ma neanche le doppie mitragliette, quindi è un'arma che di sua non si può modificare, che c'ha appunto la versione mitica che, a maggior ragione, non è modificabile, non è mai stata modificata all'inizio del capitolo 5, però vabbè, ci hanno voluto fare sto megatroll, diciamo che Gwenpool l'hanno proprio presentata come personaggio megatroll incredibile e pazzesco. Detto ciò, andiamo a parlare anche con Shuri, ma poi dobbiamo aspettare l'isola dello spawn, perché comunque ve la voglio far vedere prima che effettivamente poi la vadano a modificare definitivamente. No, ragazzi, non voglio fightare con voi, non voglio fightare con voi. E poi vi voglio far vedere l'isola perché molto probabilmente è l'unico modo che avrò, con la mia sfiga, di trovare effettivamente gli artigli di Black Panther, perché li andiamo a provare, ragazzi, eh, cioè adesso li andiamo a provare. Non avrò i lingotti per shopparli da Shuri, ma li andremo a provare. Tra l'altro, ragazzi, Shuri che avrà un ruolo fondamentale per quanto riguarda lo sconfiggere il Dottor Tumba, ma poi, ragazzi, ci sono dei dialoghi molto interessanti che andremo poi a snocciolare per bene. E niente, vedete, gli artigli di Black Panther di Shuri sono molto interessanti, vi dico subito che ho molta paura perché sembrano a dir poco sbroccati, ma poi, ripeto, ora li andremo a provare, non vi preoccupate. Adesso aspetto un attimino che escono fuori i bunker, andiamo in un bunker, magari ci farmiamo qualche lingotto e li compriamo, altrimenti aspettiamo, ripeto, l'isola in cielo dell'endgame. Ok, siamo arrivati a uno dei bunker, perché comunque, teoricamente, raga, i guanti di Shuri si potrebbero trovare anche nelle ceste degli Avengers? Io penso di sì, però ovviamente noi siamo sfortunati e non le troviamo, però penso proprio di sì. Ok, e quindi sì, raga, ma pensavo... Cioè, nel senso, si possono trovare anche in giro, quindi voglio dire. Io nel frattempo mi luto un po' di lingotti. Sì, adesso ne abbiamo abbastanza per andarle a shoppare. Nel dubbio, raga, la shoppo dai... dall'NPC e vediamo. Allora, i fantastici guanti di Shuri, ragazzi... No, perché ci ho pingato qua? Vabbè, perché sta un po' più su, ok. Sono, ripeto, sono molto forti, ma sono anche molto particolari. Mi vien da dire così, ragazzi, sono molto particolari. Per quale motivo? Ve lo faccio vedere subito. A parte il fatto che lei arriva anche fino a qua sopra. LOL, ok. Ma sono molto particolari per diversi motivi. Allora, come vedete, c'è una percentuale accanto al nome dei guanti. Insomma, beh, artigli. In realtà sarebbe più giusto chiamarli artigli. C'ha tutta una serie di meccaniche che vi permetterà di muovervi velocemente. Cioè, ragazzi, come vedete, sono tutto mega bustato, incredibile. Ed è una roba, ragazzi, fuori di testa. Cioè, no? Oltre che lo provate, capite. Ma poi, allora, più hittate, più i guanti si caricano. No! 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 Io l'ho sempre detto che in questa stagione gli scagnozzi sono un pochino troppo forti. Allora, allora. Come vedete, più hittate, più li utilizzate e più si ricarica la loro percentuale. Siamo al 100%, ragazzi. Io adesso faccio fuori un NPC un attimino, perché se no sono troppi. Ok. Con uno ce la possiamo anche fare. Con tre no. Boni. Vi trasformate, stile Super Saiyan. Adesso sono super caricati. Avrete... Madonna, c'è, raga. Faranno più danno. Sarete più veloci. Avrete lo scatto infinito. C'è una roba, raga, fuori di testa. La supercarica dura anche un bel po'. Devo essere sincero. Dura davvero un bel po'. Ed è tanta roba. C'è... Nel senso, si ricaricano comunque. Quindi non è che siete obbligati ad usarli. Una volta che si è super caricata, diventano devastanti. Vedete? Comunque io adesso sto fermo. Non faccio assolutamente nulla. Piano piano si caricano. Però più li usate, e li potete usare anche semplicemente così, senza hittare nessuno, più si va a caricare velocemente il 100%. E niente, dopo diventano a dir poco rotti. Dov'è lì? No, raga, ma l'isola fuori dalla safe. Io in questa cosa ogni tanto l'isola sta fuori dalla safe non la sopporto. Ve lo giuro, raga. È una cosa che non sopporto. Comunque, raga, l'isola è rimasta uguale, quindi attualmente è inutile anche farvela vedere, quindi non vado neanche fuori safe. Però vorrei un attimino farvi vedere un bel fight con questi qui super caricati, eh. Aspettate un attimo che li facciamo tornare al 100% e li proviamo contro questi bellissimi scagnozzi. Le doppie mitragliette, ragazzi, credo sia inutile provarle. Poi magari ci faremo delle challenge, ci andremo a fare delle partite apposite, ma, eh, cioè, semplicemente saranno delle doppie mitragliette un po' più forti. Dai, 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 che vi potete caricare ancora più velocemente su. Allora, facciamo un po' di danni prima che questi poi ci devastano brutalmente, perché qua la situazione è critica contro gli NPC. NPC, ok. Eccolo qua, trasformato. Cioè, regà, nel senso, il problema è che una volta che avete iniziato la combo, la deve finire. Quindi potrebbe essere un problema quello lì. Cioè, vedete, io sto continuando a fare la combo e quelli se me sparano mi distruggono, quindi non potete... Dove sta? Oh mio, oh mio Dio! Ah no, finito il mazzo. Benissimo. Benissimo. Ok, perfetto. E dicevo, una volta avete iniziato la combo, dovete stare attenti, perché se giocate in duo, in trio, in squad, gli altri, mentre tu stai lì a fare la combo con Black Panther, ti possono laserare brutalmente. Quindi è pericoloso. Però dall'altra parte, ragazzi, è un ottimo movement. Cioè, potete prenderla anche banalmente come movement, non solo per pushare la gente. E adesso volevo provarla contro le build. Cioè, vedere un attimino come si comporta contro delle build per vedere se le distrugge facilmente oppure agli avversari basta un attimino boxarsi e quindi in build magari possono essere un po' meno utili rispetto che magari in no build. Non lo so, in realtà, eh. Questo non lo so. Allora, mini box in metallo. Facciamo anche quello di legno e di mattone. Vediamo un pochettino. Allora, quello di legno se... No, raga, contro le build... Oddio! Oddio! Due, tre colpi l'ha fatta fuori quella in legno, eh. Due, tre colpi l'ha fatta fuori. Eh, sì, ci mette un pochino. Quindi una volta che si è entrato nel box e ti buildi la scala per difenderti ci metti un po'. Ci metti un pochino. Magari super caricata ci mette ancora di meno però effettivamente contro le build fa fatica, eh. Contro le build potrebbe far fatica, ragazzi. Ci sta. Quindi, raga, detto questo fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Mi son dimenticato anche di dirvi che hanno riaggiunto le granate elettromagnetiche quelle che utilizzavamo nella scorsa stagione per disattivare le macchine. In questa stagione servono per disattivare i meccanismi, diciamo, le armi di War Machine. Le disabilitate per totta secondi. Che può essere una cosa interessante e comunque ti spacca anche lo shield gli togli 80, quindi non è male. Ovviamente vi ricordo il codice creatore GGY, non ti tutto grande. È tutto attaccato nei cosuggetti di Fortnite. Iscrivetevi al canale se ancora non è stato fatto per non perdervi tutti i prossimi contenuti. Lasciandomi il mi piace per supportare questa che è la solida GG News di inizio aggiornamento. Per me è tutto. Ci troviamo sicuramente anche dopo con altri contenuti qui sul mio canale YouTube. Ciao ragazzi. allì. Allì.